Da fine marzo questo potrebbe costare caro. La notizia non piacerà a molti automobilisti riminesi, eppure chi è solito rispettare il codice della strada non avrà nulla da temere. Tra pochi giorni il comune di Rimini premerà il tasto ON delle telecamere conosciute come Vista Red che saranno posizionate su tre nuovi incroci della città, in Viale Principe Amedeo, in via Caduti di Marzabotto e in via Siracusa. Le intersezioni a raso ci hanno abituato negli anni a un gran numero di incidenti, talvolta mortali, e dovuti al non rispetto delle norme di attraversamento. Per questo le amministrazioni, non solo riminesi, hanno fatto spuntare rotatorie un po' ovunque, non tanto per ridurre il nostro tempo in macchina, quanto la velocità e quindi la pericolosità agli incroci. L'introduzione degli occhi elettronici vuole andare nella stessa direzione. Passare con il rosso costerà 163 euro, 217 dopo il calare del sole e 6 punti in meno sulla patente, il doppio per i neopatentati. La novità? In uno stanzino dell'ufficio contravvenzioni sarà possibile visionare il filmato del proprio attraversamento, come in un confessionale in cui fare il mio culpa prima di mettere mano al portafoglio.